Buon lavoro a tutti. La prima parola chiave della settimana è caring, ossia prendersi cura. Un mese aggiuntivo di maternità retribuita al 100% e un mese di congedo retribuito sempre al 100% per tutti i neopapà. È il welfare rafforzato di A2A con il progetto Life Caring. Interessante è che il contributo annuale di 3.250 euro per i primi tre anni di vita del bambino, così come il contributo alle spese sostenute per l'istruzione dei figli. Benvenga appunto il caring. La seconda parola chiave della settimana è premio extra. Un mese di ferie extra a tutti i collaboratori della EDI, l'Eco. Non esiste nulla di più prezioso del tempo, è quello che ha spiegato il presidente Davide Trapani, della cooperativa specializzata in ristrutturazioni eco-compatibili, con 150 dipendenti e sede ANUS a due passi da Aosta. Bella iniziativa per gratificare tutti i collaboratori con un bene molto, molto, molto prezioso, qual è appunto il tempo libero. La terza e ultima parola chiave della settimana è sorriso. Lo insegnano i bambini, lo dice Carlo Bellieni, pediatra dell'Università di Siena. Se all'inizio della vita il neonato ride per imitare la mamma, a quattro anni lo fa perché si stupisce del mondo e a partire da dieci anni diventa il modo per immedesimarsi negli altri. Il riso come il pianto è uno dei fenomeni ritmici che il nostro organismo usa per aumentare il benessere, spiega il professor Bellieni. E allora guardiamo i bambini e impariamo appunto da loro. Buon lavoro a tutti e visto che inizia a Milano il salone del mobile, buon salone a tutti!